Era da un po' che non vi davo aggiornamenti di lettura e forse anche per questo che la pila che ho di fronte a me è abbastanza alta, pur trattandosi di una selezione. Ho messo insieme le cose più interessanti che ho letto nelle ultime settimane e anche gli acquisti più recenti che più o meno dovrebbero rispecchiare i miei prossimi progetti di lettura. Mettetevi comodi perché questo aggiornamento ha l'aria di essere un po' lungo. Andiamo! Ciao dai calzini spaiati, io sono Veronica e oggi sono qua per raccontarvi quali libri mi hanno tenuto compagnia nelle ultime settimane e quali probabilmente continueranno a tenermi compagnia nelle prossime. Per parlarvi del titolo in cima alla lista prendo il mio fidato Kindle perché è in digitale che sto leggendo Shirley Jackson, A Writer Haunted Life di Ruth Franklin. E' in questo momento la biografia più completa, forse l'unica, che si è uscita su Shirley Jackson. Non mi risulta sia stata tradotta, perlomeno non è mai stata pubblicata in italiano e spero che qualche casa editrice lo faccia al più presto. Io, proprio per l'impazienza di conoscere di più su questa scrittrice che amo, vi rimando tra l'altro al video che le ho dedicato, me lo sono procurato in digitale e in lingua originale. È piuttosto voluminoso e per questo l'ho scelto in digitale e devo dire che è scritto in una maniera molto molto scorrevole in un inglese per quanto mi riguarda molto comprensibile e mi sta tenendo compagnia seppure stia intervallando questa lettura con altre cose. Chi mi segue lo sa, io non ho paura di mescolare letture diverse, specie quando non ho bisogno di tenere a mente dei particolari elementi di trama e di intreccio e quindi intervallare una biografia ad altre letture non mi fa perdere il filo e non mi fa perdere la voglia di continuare a leggere. Sono arrivata all'incirca a metà, se non ricordo male il corrispettivo cartaceo di questo volume si aggira intorno alle 800-900 pagine e quindi è un libro molto molto corposo ma viene via in un baleno. Ci sono dentro anche delle cose che ancora in italiano non si trovano, per esempio una autobiografia di Shirley Jackson che parla del suo vivere nella sua famiglia circondata dai suoi figli e contestualizzare quindi la realtà della sua scrittura nella vita di tutti i giorni che sappiamo, lo ha detto in varie circostanze, era particolarmente difficile da tenere insieme. Sto scoprendo cose di lei specialmente in quel periodo della vita che non è molto mappato dalle sue opere pubblicate in italiano. Questa biografia parte proprio dalla sua infanzia, dalle primissime letture, i primi innamoramenti letterari, il rapporto molto conflittuale con la madre, insomma mette insieme tantissimi tantissimi temi e anche per questo penso sia utile leggerlo un po' alla volta perché è un vero e proprio studio e vi fa conoscere tantissime cose su di lei. Non vorrei spaventarvi né con la mole né con la lingua straniera e né con questo aspetto di approfondimento perché vi posso assicurare è veramente una lettura scorrevole. È chiaro, deve interessarvi un po' la vita di Shirley Jackson, dovete avere un po' di curiosità rispetto a sue opere che magari avete già letto. Non è la prima cosa che consiglierei a qualcuno che non abbia almeno conosciuto un'opera di questa scrittrice, ma sicuramente per chi la conosce già e appunto si vuole avvicinare un passettino più avanti è consigliatissima. Mentre quindi leggevo questo e sto continuando, ho letto questo libro che mi aspettava da tantissimo. Si intitola I piccoli maestri, è di Luigi Meneghello, io ce l'ho in questa edizione che a me piace moltissimo, è della collana Rizzoli La Scala, che adesso o non esiste più o ha un aspetto grafico completamente diverso. Adesso questo volume lo trovate nei Tascabili Burr, ma a prescindere dalle sue qualità cartotecniche, è il contenuto che a me interessa. Questo libro mi era stato consigliato tutte le volte che mi è capitato di nominare dei libri che riguardano la resistenza. Quindi I piccoli maestri si inserisce in quel filone da letture per il 25 aprile, mettiamola così, che a me piace fare in particolare in primavera, però in realtà mi ci dedico un po' tutto l'anno, ed è stato all'altezza delle aspettative che comunque erano molto alte. Come accade anche con altri capolavori della Resistenza, non aspettatevi un saggio storico, non aspettatevi una dissertazione intorno agli ideali, ma aspettatevi quello che più o meno succede quando leggete un romanzo di Fenoglio. Aspettatevi che vi si racconti la resistenza da un punto di vista molto molto vicino alla vita vera, molto vicino alle storie di chi effettivamente l'ha vissuta e quindi non la racconta con retorica, sebbene Meneghello abbia affrontato la stesura di questo romanzo in più tappe, una prima volta in maniera abbastanza ravvicinata rispetto agli eventi vissuti e raccontati, però poi c'è stata una revisione che è arrivata parecchio tempo dopo. Nonostante questo non si è macchiata dell'idealizzazione, della stereotipizzazione di una vicenda che ormai fa parte dei libri di storia e si legge veramente con il piacere di leggere un romanzo, di leggere anche una cronaca, è lo stesso piacere di lettura che si prova appunto leggendo un romanzo di Beppe Fenoglio. Consigliatissimo, ringrazio tutte le persone che finora me lo avevano consigliato, si è veramente rivelato all'altezza delle promesse. Resto in tema con storie di resistenza perché mi sono procurata un altro dei consigli che ho ricevuto spesso quando li ho chiesti intorno a questo tema e stringo tra le mani una copia di L'Agnese va a morire di Renata Pigano. Questa edizione ha anche un'introduzione di Sebastiano Vassalli. Non so se sia la stessa che trovate in libreria in questo momento, però il bello di leggere delle opere in lingua originale e anche che non importa l'edizione, non ci si guasta il piacere di lettura anche se troviamo una vecchia copia consunta magari nella libreria dei nostri genitori. Anche Renata Viganò insieme a Meneghello era un'altra voce della resistenza che mi mancava e che mi viene consigliata ogni volta che vado a cercare affini e penso proprio che sarà la mia lettura ufficiale del 25 aprile. Ho questa usanza ormai da qualche anno e sono veramente curiosa di scoprire qualcosa in più su questa storia. Nello stesso ordine di L'Agnese va a morire, ho recuperato la nuova edizione di Rumore Bianco di Don De Lillo. Mea culpa? Io ancora non ho letto questo romanzo di Don De Lillo pur amando molto la scrittura di questo autore che ormai è un classico contemporaneo della letteratura americana e l'occasione mi è stata fornita dalla visione dell'adattamento cinematografico. Occasione per la quale Einaudi ha portato in libreria una nuova edizione con una nuova traduzione di Federica Aceto. Io sono stata un po' in dubbio nella scelta per acquistare la mia copia se prendere appunto questa nuova oppure recuperare la vecchia traduzione alla fine ho optato per la nuova ma comunque non sono ancora in grado di consigliarvi l'una o l'altra anzi mi interessa sapere se c'è qualcuno tra di voi che magari si è fatto una rilettura con l'occasione della riuscita di questo volume e magari ci possiamo confrontare in maniera più diretta su aspetti che al momento io non ho notato non avendolo ancora letto. Sono contenta di colmare questa lacuna proprio perché De Lillo è tra gli scrittori americani contemporanei forse quello che preferisco la storia vista tradotta nel linguaggio cinematografico mi è piaciuta molto e quindi mi aspetto grandi cose. Il romanzo comunque non è esilissimo e quindi penso che ci metterò un po' a leggerlo. A proposito di romanzi non esilissimi e di recuperi per i quali devo subito cospargermi il capo di cenere c'è tra le mie mani una copia di Frankenstein di Mary Shelley un classico della letteratura di tutti i tempi che forse sono l'unica a non avere ancora letto. Tutti mi hanno detto che questo libro è un capolavoro che va a letto, che non va pensato secondo il modo in cui viene comunemente raccontato e cioè semplicemente come un romanzo classico del genere horror. Dentro questa storia mi avete tutti detto che c'è qualcosa in più e io veramente mi vergogno molto di non averlo ancora letto. L'edizione che ho tra le mani è pubblicata da Burr tradotta da Silvia Castolli e ho notato che è un'edizione per ragazzi non credo però che sia alterata rispetto al testo originale quindi credo di non aver troppo toppato nella scelta per la quale ammetto di essermi fatta condizionare dalla copertina. A me non piacciono le copertine troppo chiassose un po' splatter insomma mi piaceva questo stile di grafica e mi sono lasciata condizionare da questo e anche questo è uno dei miei prossimi progetti di lettura in cui non vedo l'ora di lanciarmi. E sempre per i progetti di lettura poiché quest'anno c'è una ricorrenza tonda che riguarda il buon Simenon mi sono andata a cercare uno dei suoi romanzi che a quanto pare è il più vicino alla sua vita il più vicino proprio alla sua storia al suo modo di intendere la scrittura tutti sappiamo che Simenon ha scritto una quantità di opere incredibile che ancora continuano a uscire dopo la sua morte ma non mi era mai capitato di vedere in libreria o di sentir parlare di pedigree e mi sono imbattuta in questo titolo provando proprio a carpire qualche notizia in più sulla storia della vita di Simenon quindi è con questo spirito che ho recuperato questo volume che tra l'altro ho trovato all'usato e mi aspetto che mi intrattenga piacevolmente nei prossimi mesi non so quando effettivamente riuscirò a leggerlo però perché no può essere magari uno spunto per quanti di voi conoscano già quest'autore ma non abbiano mai sentito parlare di questo titolo concludo il mini book haul dentro questo video con un altro titolo che ho recuperato sulla scia dell'entusiasmo per aver terminato la lettura di Il lungo inverno di Hugo Singer scritto da Elisa Ruotolo e pubblicato da Bonpiani si tratta di una storia per ragazzi illustrata mentre questo mi è stato consigliato come suo libro molto molto interessante scritto per i grandi quindi di Elisa Ruotolo ho preso quel luogo a me proibito pubblicato da Feltrinelli a me in Hugo Singer è piaciuto moltissimo questo stile un po' onirico molto molto misurato di Elisa Ruotolo mi ha trasmesso un'idea di dolcezza vuoi un po' per la storia vuoi perché poi ho avuto modo di interagire un pochino con l'autrice mi è sembrata una persona deliziosa e sono rimasta colpita proprio dal suo stile di scrittura seppure lo abbia visto in un contesto di una storia per ragazzi io come sapete sono una gran lettrice di letteratura per ragazzi non credo che sia una letteratura di serie B mi rendo conto che naturalmente la lingua e la scrittura di storie per ragazzi debba essere un pelo più semplice di quella per i libri da grandi però già da quella prova di scrittura io ho sentito una lingua una penna che mi è piaciuta molto ed è per questo che sono andata a cercarla in un'altra opera poi aver avuto modo anche un po' di interagire con l'autrice e aver scoperto che è una persona squisita non mi è dispiaciuto come ulteriore elemento di colore e perciò ho recuperato questo titolo proseguo la mia carrellata tornando ai libri letti in questo caso addirittura un libro letto in anteprima perché ho potuto conoscere la malnata di Beatrice Salvioni addirittura in anticipo rispetto alla data di uscita la malnata è un esordio pazzesco è uscita in 32 paesi quindi alla faccia dell'esordio non è escluso che in un prossimo futuro lo vedremo anche riadattato in linguaggio cinematografico ed è una storia per la quale ho avuto il piacere anche di incontrare e intervistare Beatrice chissà se per quando questo video sarà uscito potrò anche linkarvi questa nostra chiacchierata è una storia che ha molte vibes da amica geniale è una storia di un'amicizia tra due ragazze una storia di formazione che però intreccia anche la storia della resistenza prima ancora della resistenza in realtà è ambientato un po' prima è ambientato nel 1936 e quindi siamo alle soglie praticamente del secondo conflitto mondiale è una storia quindi che parla di fascismo e antifascismo è una storia che parla del diventare grandi e dell'essere, del sentirsi e dell'essere diversi da tutto e da tutti e di come questo però possa essere causa di infelicità ma in fondo anche la nostra salvezza sono certa che molti di voi avranno già visto questa copertina in giro avranno già potuto adocchiare qualcosa su questa storia non voglio raccontarvene troppo perché secondo me quando si parla tantissimo di un libro si rischia anche di rovinare l'esperienza di lettura di chi non ne sa niente perciò vi consiglio di farvi un giro in libreria di iniziare a leggere le prime righe e se vi convince portatevelo a casa perché vi intratterrà in una maniera veramente brillante per un esordio ultimo libro della mia carrellata nel periodo in cui vi ho lasciati scoperti da contenuti in realtà io ho letto molti più libri di così ma ho voluto fare una selezione per parlarvi di quelli che secondo me meritano più attenzione ed è ancora in corso la lettura di un uomo di poche parole storia di Lorenzo che salvò primo scritto da Carlo Greppi e pubblicato da La Terza sono felice che La Terza mi abbia pensata per questa storia perché sono una grande amante di Primo Levi e avevo già adocchiato la figura di Lorenzo tra i suoi scritti Lorenzo è la persona, il muratore che ha in un certo senso salvato la vita di Primo Levi perlomeno ha contribuito alla salvezza e alla sopravvivenza di Primo Levi durante l'esperienza dei campi di concentramento è una storia molto intensa non strappa lacrime devo dire perché è proprio un saggio è uno studio, una ricostruzione storica di tutto quello che Carlo Greppi è riuscito a tirare fuori da testimonianze e archivi intorno a questa figura che ha avuto in un certo senso il privilegio di incrociare una voce così potente come quella di Primo Levi che è riuscito a fissarlo appunto a fargli passare la storia ma una cosa che ho molto amato che sto amando perché lo sto ancora leggendo sono praticamente a metà di questo libro e che ci parla di tutti gli eroi sconosciuti di cui è fatta la nostra storia di tutte quelle vicende che si intrecciano al periodo più buio di tutti i tempi e che però sono riuscite a salvare delle persone a portare un po' di luce e di speranza veramente in un momento atroce mi ha colpito molto questo aspetto della singolarità della condizione di Lorenzo perché appunto incrociato da una penna che poi ha saputo fissarlo su carta per sempre ma chissà quante altre storie come quella di Lorenzo hanno fatto il nostro passato e hanno fatto magari anche la salvezza di membri delle nostre famiglie e hanno permesso a personaggi anche meno illustri di Primo Levi di sopravvivere all'esperienza dei campi di sterminio non so se dedicherò dei contenuti più specifici a questo volume ho un mezzo progetto di farlo insieme appunto alle opere di Primo Levi in cui Lorenzo è protagonista però non faccio promesse se non sono certissima di poterle mantenere questa era la mia carrellata di libri che mi hanno tenuto compagnia negli ultimi mesi e che probabilmente mi accompagneranno anche nei prossimi spero di non avervi annoiati fino a qua ringrazio chi è rimasto vi ricordo che se avete bisogno di continuare questa chiacchierata mi trovate a rispondervi nei commenti se questo video vi è piaciuto lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per non perdere gli aggiornamenti io vi lascio in descrizione la lista dei volumi citati vi ricordo che inserisco un link affiliato perciò se vi fa piacere acquistarli io potrei ricevere una piccola commissione che non viene chiaramente addebitata a voi e grazie ancora per la pazienza e ci vediamo al prossimo video ciao dai calzini spaiati